3, 2, 1 Nell'ultimo video di Game Master e voi avete visto Diciamo che abbiamo smascherato Gertrude Ma? Ma in teoria, cioè voi non l'avete visto perché Ha creato un sacco di suspense, ha creato un sacco di dibattito Ma in teoria era semplicemente Mia madre che ha voluto fare un prank Visto che ho visto che mi fanno sempre tantissimi prank Ma quando? Ma quando? A me me li fanno Sempre a me Ho deciso di ripagarvi con la stessa Sì, aspetta, aspetta Come hai fatto ad accendere le luci dentro casa? Come hai fatto ad aprire la porta da fuori casa? Eh beh, questi sono trucchi del bestiello C'era Yayao, vero? C'era Yayao nascosto Quindi anche tu eri complice Oh, ma che vuoi da me? Io già vi faccio i video Comunque rega, molti vuoi Vabbè rega, bella Lei se ne va? Comunque rega molti vuoi nei commenti Avete indovinato Comunque avrà la nostra vendetta E niente, comunque lasceremo al video che è abbastanza sconcertante E stavolta purtroppo non è mappa Non è lei a farci il prank 2, 2, 2, 2, 1, guys E io sono Yayao Yayao, io è simuasi Hashtag simuasi per questo Io questa volta sono serio Questa volta Solta sono una persona seria E voglio lanciare l'hashtag simuasi prima della sigla Prima della sigla? No rega Hashtag simuasi fa schifo Quindi ragazzi vi volevo informare che sabato e domenica staremo a Romitz Quindi mi raccomando Venite, portate i cartelloni Cartelloni riferiti a me No, Simo, sì Oh No, no, no Quindi portate tantissimi cartelloni e portate le gole Le gole adoro Ok Ok Frutta Ok Le gole adoro Ok Che non vuole le gole Sì, le voglio pure io Le dividiamo Sì, 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 sì Intanto so due Una su e una giù Una quella sopra e tua E quella sotto e mia Vabbè raga Finiamo le sponsorizzazioni Così poi ci concentriamo al video Seguitemi tutti su Instagram Simone Bianchi qui sotto Simone Gargiuli E la nostra pagina di Simo sì E si vuole anche su TikTok Perché ho messo dei nuovi TikTok Ma non lo sa nessuno E seguite pure Yayao, ah Yayao 0202 0202 0202 Oggi, oggi Yayao sta facendo un video da sola Senza essere ripresa Oggi Yayao, cioè non ci ha mai parlato Mai Guarda, sta rite Guarda, guarda Ignorosissimo, sì, proprio Dov'è la telecamera nascosta? Dillo Ma dovrà parlare Dovrà parlare Dovrà parlare Eeeh Yayao, Yayao Che stai scrivendo Devi parlare Parla Oh, oh, oh Hai detto Oh Allora ragazzi Mentre noi saliremo le scale di bocina Ma che vado figo Oggi siamo professionali Il video di oggi Sarà un'ennesima pausa Su Allend Su Allend Hashtag Ma tra chi? No, io non ci gioco a pausa Challenge Un'altra volta Challenge dei suoi No Oggi Challenge dei suoi Che palle che sei Guarda, moccasca Si fa malissimo A me raga Io direi che è arrivato il momento di fare Sex No, non è vero Quanto sei stupido Eh, perché mi devo cambiare Esci, mi devo cambiare Tu ho capito che sei il mio manager Ma tu non puoi Venire anche al bagno con me Andiamo a fare la cacca Andiamo Andiamo col mignolino Andiamo a fare la cacca insieme Ok, raga Il mio outfit da trapper Eccolo qui Pelliccia Saint Laurent Magliettina Vivitone Calzini 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 Philippe Sì, sì Mutande Mutande, sì Giorgio Armagno Giorgio Armagno È bella per Giorgio Armagno Venga, comunque qua Si inizia a fare Hai sentito? Iaia 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 Siete che stanno fatti i numeri? Mi hai fatto cascata qualcosa? Valdino Ok Ho già capito Che palle Che palle Sta cosa Quella non si accende più Stai furbinata Controlla Ancendi No, eccola Vabbè Dobbiamo iniziare la pausa Ciao Dai Allora, raga Noi stiamo Cioè, abbiamo girato una clip Che però è venuta male E la dobbiamo pure rifare E la dobbiamo rifare Perché Continuano quei rumori E le luci Prende Stanza è più buia che acceso Così a caso Quindi Non lo so Ci siamo fermati un attimo Dobbiamo cercare un attimo Di capire Cosa è successo Mi chiamiamo pure mamma E niente Boh Iaiaia continua a fare i compiti Come se niente fosse Vabbè Ormai lei si è abituato A tutto A tutto Prendi la guscia Prendi la guscia Voi Voi Oh Iaiaia Ti muove Esi Questa cazzarola di luci Non è possibile Guarda Queste luci Che palle Non so Ma come va Piano Comunque Non so se hai notato Sempre agli stessi orali Capita sta roba Cinque e mezza Sei Cinque e mezza Sei sempre sto rumori Lascia la porta aperta Lascia pure le luci accese Dei tutta casa Ah Accendiamo tutto Non sprecare Oh Che è? Ma che ne so Non andava ad entrare Ok Perché c'è sto Un cerchio Ma io Ah io ho fatto E io lo so Fa pure l'u-lop Bitch E io lo so Fa anche io Oh Io lo so Fa lo sai Ma questo è come Mi metto Le bacine Osura Certo Ti va a spazzare Però Ok Ok Senti Lascia tutto acceso No Lascia tutto acceso Ok No Oh mio Dio Oh No Non c'è È tutto acceso No Anche perché giù le luci Si sono accese Yaya No ma Yayao ce sta Dai va bene Corri Corri Oh Yayao Lei è un padre L'importante è che ce sta Ma posso raga Abbiamo appena finito di mangiare Gang Hai mangiato? Yes Hai formato? Yes E Yayao è tornato a fare i compiti Faccio i compiti per 24 ore No No Mai più con la challenge Vabbè Andiamo a finire questo video Cioè A cominciare questo video Gli faremo? Fa' sta pausa challenge Esatto Pausa Dove sai te lo vuoi andare? Dai no Ti prego Dopo Pausa Dai ti muovo Non ti muovere? No Non ti muovere Non ti puoi muovere Non ti Eh Perdi la challenge Vuoi perdere la challenge? Oh bah Aia Oh bah Bah Fermo Fine Fine Pausa Stop No No Basta 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 Simo Basta Piano Ia Ia Mercane Lo senti Hai sentito? Ho sentito che sia una bomba No Non ho mai capito Dove Fermo Che è Però aspetta Oh Un Che c'è scritto? Un regalo per voi Che c'è scritto? Un regalo per voi? Da un po' pazzo Ma via la scala Via la scala Ma non è un po' pazzo Dei Ia Iao Oh questo è Un quaderno comunque Questo è un quaderno De scuola Piano A parte io non avevo mai visto Sto ripostito Qua sopra Tutti sti anni Ma che è? Senti fa Un circuito Senti Come se ci fosse tipo Un qualcosa di elettronico Vediamo se si sente Vediamo se in camera si sente Non è che c'è una bomba dentro Cioè fa schioppare questo no? Oh sì Ma che fai? Boh Non è che c'è qualcosa dentro? Sto cercando di morire Oh piano Ste cazzo De luci Ste luci Scendi Scendi da qualcosa Chiudi Fesimo Non c'è stata niente Ok Guarda un po' se con la camera Vedi qualcosa dietro Guarda quello Dove? Guarda Lo vedi? Lo a destra Che cos'è? Fammi vedere No Non posso No no Lascio Piano L'hai sentito? Sì Senti per favore Chiudi sta roba Questa è la Che devi fare Che che Allora Sì ma non va a vedere fuori Che demmo fa? No ma che lo metti? Là dentro No Fe Fe C'ha un coso elettronico dentro Devi rimanere lì Ma Simo c'ha un coso elettronico L'hai sentito che dentro fa rumore strano? C'è meno qualcosa di elettronico dentro C'abbia Se domani quel coso non sta ancora lì Chiamalo Lui Manolo Manolo No Tiralo là fuori Deve restare lì Io quel coso in mezzo ai piedi non ce l'ho Ma Simo Secondo me non va bene sta là Fa rumore strano qualcosa A me non mi piace Non buttare i biglietti Che Un po' troppo come te pare Ragioni con sta testa Posso fare sempre il cretino? Sì Bravo Mo chi è risolto? Grazie